Non è solo utilizzare il whiteboard, non è solo utilizzare i iPads in classe, è solo rendere i luoghi autonomi e dare ai studi, ai luoghi, le sceglie che hanno bisogno per essere un cittadino digitale di 21st century. Sono contenta del gruppo in cui sono stata inserita perché ho avuto una bellissima interazione, uno scambio interessante sia a livello umano che a livello professionale. Questo corso direi che è quasi un po' never ending, nel senso che oggi è l'ultimo incontro e in un certo senso mi dispiace, la piattaforma rimarrà ancora aperta, c'è ancora tanto da fare e credo che porterò con me questo tesoro per lungo tempo.